Preghiera a nostra Signora che scioglie i nodi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vergine Maria, Madre del bell'amore, Madre che non ha mai abbandonato un figlio che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i Suoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dalla infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi della mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi, Maria, Madre incaricata da Dio di sciogliere i nodi della vita dei tuoi figli, ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Madre onnipotente, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Nominare il nodo di cui ci si vuole liberare. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria, che scioglie i nodi, prega per me. Madre di Gesù e Madre nostra, Maria Santissima, Madre di Dio, tu sai che la nostra vita è piena di nodi piccoli e grandi. Ci sentiamo soffocati, schiacciati, oppressi e impotenti nel risolvere i nostri problemi. Ci affidiamo a te, Madonna di pace e di misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per Gesù Cristo nello Spirito Santo, uniti a tutti gli angeli e ai santi. Maria, incoronata da dodici stelle, che schiacci con i tuoi santissimi piedi la testa del serpente e non ci lasci cadere nella tentazione del maligno. Liberaci da ogni schiavitù, confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua luce per poter vedere nelle tenebre che ci circondano e seguire la giusta strada. Madre generosa, ti presentiamo supplichevoli la nostra richiesta d'aiuto. Ti preghiamo umilmente. Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie incurabili. Maria, ascoltaci. Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la nostra angoscia e paura, la non accettazione di noi stessi e della nostra realtà. Maria, ascoltaci. Sciogli i nodi della nostra possessione diabolica. Maria, ascoltaci. Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con i figli. Maria, ascoltaci. Sciogli i nodi nella sfera professionale, nell'impossibilità di trovare un lavoro dignitoso o nella schiavitù di lavorare con eccesso. Maria, ascoltaci. Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e nella nostra chiesa, che è una santa cattolica apostolica. Maria, ascoltaci. Sciogli i nodi fra le varie chiese cristiane e confessioni religiose e dacci l'unità nel rispetto della diversità. Maria, ascoltaci. Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro paese. Maria, ascoltaci. Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere liberi di amare con generosità. Maria, ascoltaci. Maria, che sciogli i nodi, prega per noi tuo figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.